Io mi chiamo Enrico Pozzesi, sono uno dei titolari della fattoria di Rodano, quindi sono proprietario, ma più che altro gestisco l'azienda, sia da un punto di vista tecnico, occupandomi anche delle operazioni primarie in prima persona, delle vendite, insomma un po' di tutto, a 360 gradi. Noi vivevamo vicino a Napoli e quindi io a Castellina ci andavo nei periodi di vacanza, quindi in Natale oppure in estate. I ricordi sono di quando ero bambino, erano proprio gli odori della campagna, gli odori della casa di mia nonna e quindi è proprio un ricordo molto passionale. Poi naturalmente vivendoci, standoci sempre tutti i giorni, le cose cambiano un pochino, diventa un po' tutto un'abitudine, però diciamo che è una bella abitudine. Infatti la grossa difficoltà quando viaggio è magari stare due giorni a New York, io dopo sei ore già non posso più.